Quest'anno è il centenario della prima pistola semiautomatica e bretta, quindi la prima pistola è stata fatta dal bisnonno nel 1915, siamo nel 2015 e quindi abbiamo fatto non una riedizione della 1915 ma una versione speciale che abbiamo chiamato giusto appunto centennial e che è il massimo dello studio per quanto riguarda bretta legato alla pistola storica bretta che è la piattaforma 92 e quindi è una pistola commemorativa che fa piacere regalarla a qualcuno che nel 2015 ha vinto un qualcosa di veramente speciale e però non è solo una commemorazione ma è una versione veramente speciale perché è a differenza delle normali 92 col fusto in acciaio e la sicura sul fusto che è quello che tipicamente i tiratori di tiro dinamico amano e quindi è un particolare piacere lasciarla come ricordo al nostro campione. Complimenti di nuovo!